Ha scelto l'Aquila per la sua prima visita pubblica il neopresidente del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Alessandro Giuli. Un segnale importante perché il Maxi per il presidente non è una dipendenza di Roma, ma una realtà culturale strategica che dialogherà sempre con l'istituzione e che sarà un punto di riferimento. Tre giorni intensi per Giulia l'Aquila che definisce una città straordinaria. Il rilancio del territorio avviene mettendo insieme a fattor comune tutto il valore delle istituzioni del territorio, cioè stabilire dei tavoli di confronto permanente tra le istituzioni politiche, le associazioni, le grandi eccellenze dell'arte, dell'università, della musica del luogo, del commercio, dell'industria. Significa avere sempre un punto di riferimento, che sperabilmente sarà il Maxi, dove confrontarsi e agire in modo corale, perché il rilancio avviene sempre coralmente. Quindi abbiamo rapporti bilaterali con tutti, è ovvio, ma ci piace l'idea che questi rapporti si allarghino e che ci si parli tra istituzioni. Il Maxi dell'Aquila non è una dependenza del Maxi romano, è una cosa specifica, che ha un'identità che si definisce e si modella attraverso la cultura del luogo e le genti del luogo. Il Maxi intanto ha presentato la programmazione 2023. Si apre il 1 aprile con la doppia personale dedicata a Marisa Merz e Shiltagupta. In primavera è in programma un appuntamento di approfondimento dedicato all'artista abruzzese Franco Summa in collaborazione con l'università. In estate Piazza Santa Maria Pagani, che ospiterà come negli anni precedenti una struttura a disposizione della città per gli eventi estivi del museo. A settembre torna Performative, la terza edizione del festival realizzato con l'Accademia delle Belle Arti e con il Comune, che trasformerà la città nel centro della performance di arte danza, musica e teatro nel terzo weekend del mese.